ciao a tutti sono riccardo baracco ho 20 anni e per presentarmi brevemente ho pensato di sedermi vicino a questo pianoforte che in un certo senso rappresenta una delle mie grandi passioni che è la musica oltre a questa in parallelo ho sempre coltivato anche la passione della scrittura fin da piccolino attualmente vivo in provincia di brescia sono iscritto al corso di laurea di filosofia la statale di milano sono al primo anno e sono molto felice che abbiate apprezzato il mio testo per il premio chiara giovani 2016